L'intelligenza artificiale nella musica secondo me per noi musicisti potrebbe essere un'opportunità, ma soprattutto un'opportunità per rivalutare ciò che invece diciamo la creatività umana ha fatto in tutta la storia della musica. Certamente l'intelligenza artificiale comincia a comporre a una serie di dati, degli algoritmi che riescono a sviluppare tutte le leggi armoniche in una linearità facile, semplice. La creatività è qualcosa di diverso, la creatività umana e artistica. Ci sono dei dati che l'uomo ingloba, studia e poi improvvisamente dall'esperienza anche sensoriale della vita riesce poi improvvisamente a creare un linguaggio nuovo. L'intelligenza artificiale sicuramente oggi riesce poi riuscire a comporre, ad eseguire poi c'è il caso dell'interpretazione. L'intelligenza artificiale è dotata di un algoritmo in cui sono state immesse tutte, se vogliamo dirle in maniera semplicistica, tutti gli aspetti estetici dei grandi compositori del passato. Lui riesce ad elaborare e a comporre, però non sono mai stati neanche inseriti negli algoritmi i cosiddetti compositori o composizioni brutte, tra virgolette. Quindi ha solo una concezione di bello ma non di brutto. Questo nuovo linguaggio con l'intelligenza artificiale, con i compositori, sicuramente bisogna interfacciarsi. Il compositore umano riuscirà a sviluppare una nuova estetica proprio da questo rapporto con l'intelligenza artificiale. Io suono uno Stradivari del 1720, di Angel ex madrileno. Stradivari cosa aveva creato? Stradivari è così famoso perché aveva creato questa macchina, questa diciamo intelligenza artificiale che era capace di tradurre tutto il sistema tonale della musica, tutte le tonalità, riusciva a trasformarli in suoni in espressione di sentimento. Quindi diciamo anche questo violino era l'intelligenza artificiale del 1600-1700. Ora, per quanto riguarda l'interpretazione, lì c'è più difficoltà per l'intelligenza artificiale. Perché? Perché è una questione di materiali, di materiali. Noi suoniamo e interpretiamo secondo la, diciamo, il nostro tatto, il nostro, diciamo, essere una sostanza morbida, mentre l'intelligenza artificiale è una sostanza rigida. E questo, nell'interpretazione, nel suonare uno strumento, è molto importante. Vogliamo dirlo, anche lo Stradivari era un'intelligenza artificiale, ma cosa volevano all'epoca i compositori? Volevano, o i yutai, uno strumento che riproducesse la stessa, gli stessi armonici della voce umana. Ci sono riusciti o non ci sono riusciti? Si sono molto avvicinati, ma la voce umana comunque è sempre più, e ti commuove sempre di più che forse uno strumento a cord. Nella musica i pregi dell'intelligenza artificiale sono la banca dati che ha, che conserva in questi suoi algoritmi. I difetti sono la sua linearità e la sua non esperienza emotiva.